Lei mi ha un brutto e ti qui adesso, ti dice cose strane, e mi guarda come non vorrei, adesso devo proprio andare, ti chiamo prima o poi, lo so che se voglio io posso restare, ma perché sei? Non insistere dai, e adesso aprimi la porta, 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 che mi richiedo per cortesia, apri questa cazzo di porta, 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 porta. Pam, 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 mamalina, su, su qui a pistola, pam, 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 non venga non sto qua, cosa devo fare, pam, 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 mamalina, pap, pam,born, qui, troviamo da pam, pam, non è che nel capitale, di che sono solo quello, di chi è pieno solo quello? E van, 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 na lorina da pa 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 De giocareduction, van, van, van E mi resto qua un fun попwalk Y van, 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 na lorina Generalmente c'è, van, van, ma dov'erci sarà Viene un passiere, e me lo ah Vorrei un passiere, e me lo ah Grazie a tutti.